6 le denunce scattate a seguito del rave party illegale di Marciano della Chiana, 3 i furgoni sequestrati ed in tutto circa un'ottantina i giovani identificati dai carabinieri. Si è conclusa così la vasta operazione che ha coinvolto i militari della compagna di Cortona, le stazioni di Lucignano, Monte San Savino, Castiglion Fiorentino e Rigutino, impegnati da ieri mattina a ristabilire l'ordine nella frazione della Val di Chiana. Sarebbero stati in tutto 300 i giovani provenienti da tutta Italia che hanno preso parte alla festa del tutto illegale, altri 200 invece sarebbero stati respinti dal blocco stradale dei carabinieri. La festa abusiva era iniziata il 31 dicembre per una durata ancora imprecisata nei capannoni abbandonati che si trovano accanto alla discoteca Crocodile. I partecipanti si erano dati appuntamento nei pressi del casello dell'uscita 1 di Battifolle per poi raggiungere il capannone dove era stata allestita l'improvvisata discoteca. I carabinieri hanno già individuato gli organizzatori, si tratta di 6 persone, dita compresa tra i 30 e i 40 anni, 3 di loro sono della provincia di Rieti, altre 3 di Roma. Sono stati denunciati per l'invasione di edifici e per aver organizzato un evento pubblico senza alcuna licenza. I sigilli poi sono scattati per 3 furgoni, carichi di attrezzature, luci, impianti ed amplificatori. I giovani partecipanti, prima che lasciassero la zona, sono stati infine identificati dai carabinieri. Proseguono intanto le indagini per stabilire se ci siano altri responsabili. Il blitz delle forze dell'ordine era scattato alle prime luci dell'alba di ieri mattina dopo la segnalazione di alcuni residenti.